Musica 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 Quindi per l'economia sono indispensabili e adesso sono anche invece un messaggio di civiltà, in un mondo che è così oppresso dalla guerra in un mondo che può precipitare persino una guerra religiosa la presenza di componenti di cultura islamica nella città europea è una ricchezza straordinaria Mi sento accettato ma c'è alcune lacune che dobbiamo superare come quella un po' rassista sul lavoro come quella la legge sull'immigrazione che questi anni non dà fiducia ancora agli immigrati che vivono qui Musica 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 Grazie a tutti